Buongiorno a tutti, sono Nicoletta di Spazio Tempo. Ecco qui un breve tutorial per scoprire come fare a disattivare o attivare il Wi-Fi del proprio dispositivo con i tasti del vostro dispositivo appunto. Nel nostro caso il portatile ha il tasto F3 come funzione per il Wi-Fi. Dunque noi dobbiamo schiacciare prima Fn, poi il tasto F3 e vediamo che appare una bella X sul simbolo del Wi-Fi. Per riattivarlo dobbiamo ripetere la procedura Fn, F3 nel nostro caso. Ovviamente il tasto può cambiare, l'importante è guardare quel simbolino che adesso vedete sul mio tasto F3. Se nel vostro è in un altro ovviamente dovete fare Fn più quel tasto lì. Ciao a tutti! Ciao a tutti!